Oggi nella mia presentazione vi parlerò di come è possibile razionare, utilizzare, lavorare con razioni a basso contenuto di proteina con l'obiettivo di andare a migliorare e incrementare l'efficienza di utilizzazione della proteina da parte degli animali senza in nessun modo andare a penalizzare negativamente le performance degli animali ma anzi cercando di andare a incrementare le performance produttive e la resa di proteina nel latte come prima cosa che occorre capire è innanzitutto quale relazione c'è tra il livello di proteina e razione e la produzione di latte io credo che a questa domanda a primo impatto molte persone potrebbero rispondere in modo anche abbastanza ovvio nel seguente modo all'aumentare della proteina aumenta il latte in realtà non è proprio così come possiamo vedere da questo grafico tratto dal lavoro scientifico di una meta-analisi dove ci sono all'interno lavorazioni di molti studi è stato appunto messo in relazione il livello di proteina in razione in funzione della produzione di latte come possiamo vedere questa relazione non è così diciamo marcata anzi non esiste una vera e propria relazione e quindi questo ci dice ci dà un'informazione importantissima ci sta dicendo che il livello di proteina in razione non influenza direttamente la produzione o per meglio dire non è un fattore determinante per quanto riguarda il livello produttivo per contro però il livello per contro però una relazione molto chiara e molto lineare emerge dal azoto ingerito al giorno rispetto a come la vacca utilizza quest'ultimo a livello proprio del metabolismo cioè come vediamo in questo grafico viene riportata l'azoto ingerito in funzione di come poi viene utilizzato l'interno di mare cioè in funzione di quanto azoto ingerito quanto azoto poi troviamo nel latte rappresentato dalla riga verde quanto azoto troviamo nelle feci rappresentato dalla riga blu e quanto azoto troviamo poi nelle urine rappresentato dalla riga rossa come possiamo vedere questo grafico è molto chiaro e ci dice che all'aumentare dell'azoto ingerito quindi della proteina ingerita aumenta sì l'azoto contenuto nel latte ma aumenta in maniera molto più forte l'azoto contenuto nelle feci e ancora di più quello contenuto delle urine quindi questo cosa vuol dire vuol dire che all'aumentare del livello proteico delle razioni o comunque di quanta proteina all'aumentare della proteina ingerita l'efficienza degli animali diminuisce quindi gli animali utilizzano sempre peggio l'azoto la proteina che gli si dà questo appunto determina spreco e determina un aumento degli impatti ambientali quindi l'aumento di proteine in razione non ha sempre un effetto diretto e positivo sulla produzione questo cosa vuol dire in parole povere che non è detto che se aumento la proteina in razione comunque sempre comunque ottengo un beneficio a livello produttivo anzi e poi vedremo non è sempre così l'aumento mentre l'aumento di proteina in razione causa una riduzione dell'efficienza e quindi un aumento degli sprechi attraverso un maggior contenuto di azoto come abbiamo visto nelle urine e nelle feci rispetto a quello contenuto del latte e quindi un conseguente aumento degli impatti ambientali quindi se si vuole iniziare a lavorare verso razioni che puntino a un'ottimizzazione una valorizzazione della proteina occorre ogni qual volta si vada a modificare il livello di proteine in razione occorre considerare alcuni aspetti le risposte in latte in funzione del rischio di perdita di efficienza cioè quanto e se avrò una risposta positiva in latte in funzione di quanta però efficienza perdo dal punto di vista azotato il costo della proteina che ha in quel momento sul mercato che io inserisco in razione in più in funzione del valore del latte che ha in quel momento e il rischio di un aumento degli impatti ambientali io credo che quanto detto finora porti abbastanza in maniera ovvia e intuitiva a porci una domanda perché non iniziamo a utilizzare a lavorare con razioni che hanno livelli di proteina più bassi questa domanda io credo che sia ormai da qui ai prossimi anni oggetto di forte discussione è una tematica molto calda perché come abbiamo visto anche nella presentazione precedente le prospettive a livello mondiale di proteina non sono così favorevoli o comunque come abbiamo visto il prezzo della componente proteica è sempre elevato e oltre a un aspetto economico c'è anche un aspetto di sostenibilità in quanto la proteina acquistata ha un impatto molto forte perché comunque praticamente arriva quasi tutta dal Sud America e in più oggi come oggi il mondo, l'opinione pubblica, il consumatore ci chiede, ci chiederà sempre di più di produrre in modo sostenibile e quindi a mio avviso le vie sono molteplici, sono tante ma una delle vie per poter rispondere essere pronti a mercati differenti a delle esigenze differenti e essere soprattutto pronti a rimanere sul mercato come azienda dal punto di vista economico e iniziare a lavorare in questo senso quindi iniziare a utilizzare razioni con livelli di proteina più bassi naturalmente per far ciò per arrivare a questo è importante che venga fatto in maniera io dico sostenibile ma in questo caso per sostenibile intendo applicare questa ottimizzazione in modo che in nessun modo andiamo ad inficiare negativamente sulle produzioni, sulla salute sulle performance degli animali ma anzi applicare queste tecniche che poi vedremo e queste strategie nutrizionali innovative che ci permettono da un lato di essere più sostenibili di svincolarci più dal mercato e di diciamo così andare incontro alle esigenze che il mondo ci chiede dall'altra parte di mantenere le produzioni elevate e anzi vi dico di più come poi vedremo aumentare addirittura le performance produttive in termini soprattutto di produzione di latte e proteina nel latte per far questo occorre affrontare a livello nutrizionale determinati aspetti che sono innanzitutto fornire una corretta quantità di proteina in funzione dello stato fisiologico e della reale produzione dell'animale il secondo punto da affrontare è aumentare l'efficienza proteica attraverso il metabolismo energetico la qualità delle fonti proteiche somministrate e il profilo degli aminoacidi ora andrò nella parte successiva delle presentazioni a riprendere ogni punto in maniera breve perché comunque il tempo non lo consente di approfondirli in modo adeguato partendo dal livello di proteine in funzione dello stato fisiologico vi riporto un interessantissimo lavoro in cui sono state somministrate tre tipologie di diete aventi tre livelli di proteine differenti un livello alto 17% un livello medio 14% e un livello basso 11% di proteine in razione queste tre tipologie queste tre diete sono state somministrate a tre gruppi di animali nella prima fase di lattazione dalle 0 ai 150 giorni dopodiché dal 151esimo giorno di lattazione c'è stato un cambio di razione mi spiego meglio il gruppo che fino nella prima metà della lattazione aveva era alimentato con una razione all'11% di proteine è stato diviso in due gruppi in cui una metà è stata ha continuato a essere alimentata per tutto il resto della lattazione all'11% mentre l'altra metà si è aumentato il livello proteico fino a un 14% mentre il gruppo alimentato al 14% nella prima fase di lattazione una metà ha continuato con un 14% un'altra metà invece è stato alimentato con un livello di proteina superiore intorno al 17% nella seconda metà di lattazione mentre il terzo gruppo che partiva con un 17% di proteina nella seconda metà della lattazione una metà è stata ha continuato a ricevere una dieta con il 17% di proteina e l'altra metà invece si è ridotto il contenuto proteico a 14% ora passando a quelli che sono stati risultati in alto a destra vi riporto il grafico dove sulla produzione di latte media giornaliera nella prima metà della lattazione quindi corrispondente tra gli 0 e i 150 giorni e vediamo come effettivamente all'aumentare del livello di proteine in reazione è aumentata nettamente la produzione di latte quindi questo cosa ci dice che comunque nella prima fase di lattazione una proteina più alta porta a produzioni più elevate o comunque le vacche rispondono molto bene all'aumento della proteina in reazione cosa molto interessante se andiamo a vedere i risultati invece produttivi nella seconda metà quindi dal 150esimo giorno di lattazione fino al 305 vedete il grafico in basso a destra come vengono rappresentati tutte le varie tipologie di diete e la cosa interessante su cui vorrei portare la vostra attenzione è come razionare al 17% o al 14% nella seconda metà della lattazione a livello produttivo non ha pretato a nessuna differenza questo è dimostrato anche da un altro lavoro che vi riporto in cui sono state somministrate qui anziché 3-4 tipologie di diete con livelli di proteine differenti 16% 14% 13% e quasi un 12% sono state somministrate a 128 vacche qui solo nella seconda metà della lattazione quindi dal 150esimo giorno in poi vediamo qui come anche qua si sono tenuti i risultati direi simili se non uguali dove comunque razionare razioni con 16% di proteina piuttosto che razioni con 14% di proteina ha portato a produzioni statisticamente non significativi quindi uguali quindi questo facendo già una prima conclusione su questo aspetto ci dà delle informazioni molto importanti la prima informazione è che nella prima fase di lattazione un aumento della proteina ha effetti positivi in termini di produzione di latte quindi inizia a avere senso premiare le nostre vacche e dare razioni con livelli di proteina più alti mentre nella seconda parte della lattazione quindi dai 150esimo giorno in poi ci possiamo permettere di ridurre il livello proteico in razione senza avere nessun effetto negativo sulla produzione di latte perché comunque il metabolismo dell'animale cambia i fabbisogni energetici e proteici cambiano non c'è più il problema tra virgolette del bilancio energetico negativo e la vacca ha un metabolismo in cui riesce a utilizzare in maniera più efficiente l'azoto quindi queste sono tutte motivazioni che ci portano a spingerci lavorando in modo corretto a livello di razioni a poter utilizzare razioni con anche due punti e mezzo di meno di proteina ottenendo le stesse performa produttive quindi questo cosa ci permette già di migliorare da una parte l'efficienza dell'allevamento della stalla in generale e di conseguenza avere un aumento della sostenibilità ambientale perché utilizzando meno proteina e producendo lo stesso latte diventiamo già molto più sostenibili come aziende e di conseguenza giocoforza sia anche una sostenibilità economica perché abbiamo bisogno di meno proteina quindi compriamo meno proteina per avere le stesse performa produttive quindi iniziamo a rispondere a quei requisiti che comunque il mondo ci chiede e che comunque a livello anche non di larga scala ma diciamo a livello anche solo aziendale porta dei benefici perché le produzioni non cambiano ma aumenta la sostenibilità economica il secondo punto che vi voglio descrivere è come aumentare l'efficienza azotata lavorando sul metabolismo energetico qui faccio una premessa è un argomento molto ampio e non semplice però per motivi di tempo vi porto poi come vedrete due lavori a dimostrazione giusto per farvi capire come è possibile e che effettivamente lavorare sul metabolismo energetico porta dei benefici questo lavoro praticamente in questo studio sono state prese delle vacche in cui è stato diciamo così infuso a livello problematico del glucosio per diciamo così simulare un effetto di supplementazione energetica diretto di supplementazione energetica e come possiamo vedere dalla tabella in basso a sinistra le vacche che avevano il 30% in più diciamo così di energia disponibile hanno evidenziato una maggior produzione di latte e una maggior resa di proteina ma non solo queste vacche hanno anche fatto registrare un'urea più bassa che è dovuta al fatto che l'urea come potete vedere nel grafico dove riporta l'urea contenuta nel sangue in funzione dei giorni in cui è stato fatto il trattamento vedete come le vacche che avevano diciamo così più glucosio a disposizione hanno fatto registrare comunque avevano un'urea nel sangue nettamente più bassa che poi si è riflessa sul latte un altro lavoro molto interessante che ci permette di capire l'effetto del metabolismo energetico sull'efficienza dotata è questo in cui a differenza di prima qui è stata fatta una supplementazione di amido post-rubiale in cui a diversi livelli dove possiamo vedere i risultati sono stati seguenti per quanto riguarda la produzione di latte che il vostro grafico in alto a destra vediamo come alla supplementazione più alta di amido si sono ottenuti si è ottenuta una produzione più alta ma la cosa ancora più interessante è che il livello di proteina nel latte quindi la resa di proteina proprio come grammi di proteina al giorno per vacca nel latte è aumentata in modo lineare all'aumentare della disponibilità di amido post-ruminale quindi questo ci permette di 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 comunque di sostenere di affermare che un aumento dell'energia correttamente bilanciata a livello di razione oltre ad aumentare le produzioni di latte e di proteina nel latte consente all'animale di utilizzare molto meglio l'azoto in tutto il suo tatto gastroenterico inoltre una metoda di energia correttamente bilanciata consente quindi di ridurre l'azoto attraverso le urine e le feci e quindi aumentare la disponibilità per i fabbisioni dell'animale che può essere per i tessuti o per i lati in funzione del livello produttivo e dello stato fisiologico in cui si trova quindi questo cosa vuol dire in parole più povere che se noi riusciamo a lavorare molto bene sul metabolismo energetico questo oltre a premiare dal punto di vista proprio della produzione dello stato di salute del bilancio energetico dell'animale stesso dà un effetto positivo e enorme sull'efficienza quindi sul modo in cui la vacca riesce a utilizzare l'azoto e tutta la proteina che gli stiamo somministrando quindi questo consente di far sì che l'animale mi ricollego al grafico della terza slide che l'animale riesce a dirottare più azoto nel latte o comunque trattenere nel corpo e quindi meno diciamo così sprecarlo attraverso le feci e le urine quindi questo aumenta notevolmente l'efficienza dell'animale e nel contempo aumenta anche la sostenibilità perché l'animale comunque sta inquinando meno perché sta sprecando meno azoto il terzo punto su cui occorre lavorare per arrivare a fare efficienza di un certo tipo è la qualità delle fonti proteiche essenzialmente la qualità delle fonti proteiche sono due grossi occorre considerare due grossi aspetti il primo è la tipologia di proteine per tipologia di proteina intendo non tanto l'alimento di per sé soia piuttosto che colza piuttosto che medica piuttosto che ma intendo quali frazioni di proteina in che sono contenute all'interno dell'alimento che si vuole utilizzare quindi bisogna iniziare ad andare a sapere conoscere molto bene ogni alimento che apporta proteina razione quanta di questa proteina è azoto non proteico quanta di questa proteina è proteina solubile quanta è rumino degradabile quanta è rumino indegradabile questo perché bisogna arrivare a sapere poi quando si va a formulare l'azione a livello generale di razione quanta in termini di quantità di grammi di chili abbiamo di azoto o di proteina per ogni frazione ai fini di poi poterla bilanciare nel modo più corretto e più giusto possibile l'altro aspetto che bisogna affrontare è quello di andare a conoscere esattamente qual è la reale proteina disponibile cioè quanta di quella proteina che stiamo somministrando ai nostri animali è veramente disponibile ci sono due parametri chimici che permettono di predirlo comunque di capire questo uno è la proteina legata all'NDF ma soprattutto la proteina legata all'ADF perché vi porto questo perché conoscere questi tipi di questi parametri chimici e ormai se si vuole lavorare in questo senso quindi se si vuole iniziare a fare efficienza e ottimizzare tutta la proteina che gli si dà gli animali per poter aumentare le produzioni e diminuire gli sprechi e lavorare con proteina più bassa occorre conoscere assolutamente questi due parametri chimici perché ci sono molti alimenti in cui questi parametri chimici sono molto variabili e non sono solo i foraggi ma sono anche altri alimenti tra cui sottoprodotti perché si possono trovare effettivamente valori molto variabili alcuni lavori citano che comunque questa variabilità può variare dal 2 al 25 per cento quindi è tantissima perché la variabilità è così forte perché comunque ci sono molti fattori che la possono influenzare prima di tutto la tipologia di fonte proteica poi le caratteristiche del prodotto di partenza quindi lo stesso prodotto può avere diciamo così valori proteine legate differenti e poi i trattamenti a cui sono sottoposti i trattamenti e qui mi rivolgo soprattutto ai sottoprodotti hanno un impatto pesantissimo sulla proteina legata perché comunque le alte temperature i trattamenti termici denaturano le proteine e le rendono indisponibili poi per l'animale quindi nell'ottica in cui si deve e bisogna valorizzare i sottoprodotti e cercare come precedentemente descritto nella prima relazione cercare di acquistare meno soia e cercare di acquistare sottoprodotti locali per un'economia circolare e comunque per impattare meno e per essere più sostenibile bisogna andare sui sottoprodotti perché sono un pilastro molto importante e una risorsa importante però naturalmente bisogna conoscere le caratteristiche di queste risorse e sui sottoprodotti come dicevo appunto è molto importante determinare queste diciamo parametri chimici questa proteina quantificare la proteina legata e anche naturalmente sui foraggi la stessa cosa perché comunque un foraggio dal punto di vista qualitativo ma proprio come digeribilità della fibra automaticamente si va a incidere anche sulla disponibilità di proteina perché se abbiamo un foraggio poco digeribile con tanta lignina avremo anche tanta proteina incrostata alla lignina e quindi indisponibile per gli animali l'ultimo punto è il profilo degli aminoacidi e delle fonti proteiche somministrate se si vuole ripeto puntare a questo tipo di approccio e questo tipo di strategia nutrizionale non si può più prescindere dal conoscere quali sono quali sono il profilo aminoacidici delle fonti proteiche più utilizzate o comunque più 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 impiegate nelle razioni di vacche da latte e come possiamo vedere perché vi dico questo perché comunque il profilo degli aminoacidi può variare tantissimo vediamo qua vi riporto un grafico tratto da un lavoro in cui metteva a confronto il profilo aminoacidico di quattro fonti proteiche che sono un po' le fonti proteiche a mio avviso più utilizzate nel mondo del latte e vedete comunque per alcuni aminoacidi effettivamente gli apporti sono molto differenti e quindi bisogna assolutamente prenderli in considerazione perché bisogna considerare gli aminoacidi perché comunque bisogna sapere poi per ogni alimento qual è il reale apporto di aminoacidi singoli aminoacidi ma soprattutto degli aminoacidi essenziali su tutti l'isina e metodina che possono essere quelli che in qualche modo possono peggiorare l'efficienza far sprecare proteina e far produrre meno latte ma soprattutto una cosa abbastanza innovativa è quella di iniziare a bilanciare le razioni ma soprattutto scusate bilanciare gli aminoacidi in particolare metodina lisina in funzione della proteina metabolizzabile della razione l'NRC i requisiti le linee guida dicono per la metodina deve essere il 2,4% della proteina metabolizzabile mentre la lisina il 7,2 però comunque molti lavori scientifici hanno dimostrato che arrivare a quei valori è molto 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 difficile quindi hanno poi dato delle raccomandazioni pratiche che sono leggermente inferiori ai livelli che in teoria la vacca si aspetta perché devono essere il profilo aminoacidico deve essere il più simile possibile al profilo aminoacidico del latte quindi che la vacca richiede per produrre latte per concludere volevo portarvi un lavoro molto recente che si basa su un'indagine di 98 aziende fatte in Canada le quali sono state monitorate e suddivise in funzione dell'efficienza azotata quindi sono state suddivise in funzione dell'efficienza azotata che avevano in delle categorie quindi dalla peggiore efficienza azotata quindi intorno al 22% 27, 30 e 36 una volta suddivise in queste quattro categorie sono andati a capire alcuni risultati vediamo qua ve ne porto alcuni vediamo come nel grafico in alto a destra viene rappresentata la produzione di latte corretto al 4% di grasso e vediamo come le aziende che avevano un'efficienza più alta intorno al 36% erano poi le aziende che presentavano anche la produzione più alta se ci spostiamo mentre in basso a sinistra qui ci è rappresentato la resa in proteina vediamo anche qui come chi l'azienda la categoria di aziende il gruppo di aziende che avevano l'efficienza più alta avevano poi un livello proteico in razione più alto nel contempo le aziende con un'efficienza soltanto più alta avevano anche l'urrea nel latte più bassa e non solo infine le aziende con l'efficienza più alta avevano un'efficienza nutrizionale una conversione di alimento in latte è presentata nel grafico in basso a sinistra più alta ma soprattutto vedete come all'aumentare dell'efficienza azotata aumenta l'efficienza nutrizionale ma questo credo che sia abbastanza logico perché c'è meno spreco la vacca utilizza molto meglio la componente proteica che gli si somministra in razione ma la cosa ancora più interessante è che le aziende con l'efficienza più alta avevano anche gli effici più alti quindi più efficienza più ritorno economico per concludere è possibile sicuramente ottenere produzioni elevate anche con livelli di proteina contenuti nonostante oggi comunque siamo tutti consapevoli del fatto che la produzione delle vacche che noi eleviamo oggi moderna è altamente produttiva grazie alla genetica grazie al menage grazie a un lavoro di le stabilazioni le strutture l'ambiente però nonostante i livelli così produttivi delle nostre vacche si può comunque razionare con razioni con con livelli di proteina contenuti o comunque moderatamente bassi lavorare valorizzando la proteina e migliorando l'efficienza azotata consente di migliorare la sostenibilità economica e ambientale dell'azienda da latte naturalmente l'applicazione di queste strategie che vi ho descritto per valorizzare la proteina richiede una conoscenza altamente qualificata in materia perché comunque è un approccio nutrizionale un po' innovativo un po' diverso che se deve essere fatto bene richiede per assolutamente una preparazione di un certo tipo altrimenti quello che dico sempre io quando vado in giro per aziende meglio non fare nulla e continuare a razionare con livelli proteici diciamo così normali o che sempre usati perché comunque quando si va a toccare questo tipo di aspetti bisogna essere perfettamente consapevole di quello che si fa perché se li si tocca bisogna toccarli in modo tale che le vacche non perdano produzione anzi le aumentino e quindi migliorare tutto il resto un po' un po' Grazie a tutti.